Io e Leo stiamo insieme da quando ha ufficializzato la sua separazione da Laura. Lui si sentiva solo, io anche. Da lì è nato un tenero affetto. Solo ultimamente era molto nervoso a causa del lavoro. Era molto stressato. Ha deciso anche di aprire la società ad un nuovo membro, del quale però non so nulla. Ovviamente per questo ha litigato molto con il suo migliore amico, Bruno. Questo ha portato ad inclinare di molto il loro rapporto. Questa sera quando stava sorteggiando il suo mio preferito. Questo prendere i nuovi mercati che abbiamo aperto per uscire dal rischio. Avevamo già affrontato questo argomento. Ricordi? E io... E io non ti permetto di... Leo! 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 Leo E ora basta così può andare. Grazie a tutti.